La reliquia di Santa Sinforosa arriva nel 1641. Abbiamo un atto notarile datato 31 gennaio 1641 ad opera dell'arciprete del paese che si chiamava Don Giambattista Bassano. Questo sacerdote si reca a Roma per alcune sue cose personali e porta con sé varie reliquie, tra cui questa ampolla della reliquia del sangue di Santa Sinforosa. Dopo diversi anni, nel giorno dell'ascensione, il sangue si scioglie e quindi i sacerdoti chiedono a Monsignor Sabatino, il vescovo, siamo già all'inizio del 1700, chiedono l'autorizzazione al culto, ecco, ad esporre al culto questa reliquia così rara, così preziosa. E il vescovo ha consente. Don Antonio, il giorno della celebrazione eucaristica, durante i festeggiamenti, che cosa è accaduto? Al termine della Santa Messa, il vescovo ha voluto visitare la reliquia di Santa Sinforosa e durante questa brevissima visita, il sangue si è sciolto improvvisamente davanti ai nostri occhi. Da quanto tempo non accadeva, no? Cosa del genere? Da due anni. L'ultima volta è accaduto nel 2009. Quindi, durante la celebrazione era presente Monsignor Nolè. Quali sono state le sue impressioni sull'accaduto? Il vescovo è rimasto molto contento, soprattutto dal bagno di fede, ecco, fatto in questo momento particolare della vita della nostra comunità parrocchiale. Ma è rimasto contento anche di questo segno, perché il vescovo è la diocesi, quindi la presenza del vescovo è la presenza della diocesi, e il miracolo di Santa Sinforosa, la presenza del vescovo, vuol dire una particolare attenzione della Santa verso la nostra diocesi. Grazie a tutti.